Mazzamoretto quanti schiavi che so volati in questi video! Ovviamente io spero che tu accetterai di avere questo confronto, ovviamente noi ti daremo sempre diritto di replica, per favore non fare come hai fatto con Bressanini e che ti sei messa a replicare da solo nel sottoscala senza poi avere un vero vis-à-vis con lui. Ecco, in questo caso pubblicamente ti stiamo invitando ad avere un bel dibattito con noi, magari live, magari in un evento, ovviamente io mi farò accompagnare da una serie di esperti proprio di ebraistica, così che possiamo a 360 gradi prenderti a schiaffoni anche dal vivo, metaforicamente parlando ovviamente noi non siamo come i tuoi sostenitori che mandano pallotto le minacce, si parla di schiaffoni argomentativi, perché questo si può fare. Bello del dibattito è che noi vinciamo e tu perdi. Detto questo, sigla! Un saluto a tutti quanti, io sono Luca, eccoci qui al settimo e ultimo appuntamento dedicato a Mauro Biglino, che noi ormai amichevolmente chiamiamo Mauretto. Questa nostra inchiesta è stata prodotta dai Wannabe Premium, un gruppo di utenti che ha deciso di sostenerci economicamente proprio per permetterci di realizzare sempre nuovi contenuti. Siamo quindi ormai alla fine di questa grande odissea e veramente bisogna ringraziare i Premium che, oltre ad averci aiutato economicamente appunto perché siamo andati a Taranto a fare delle interviste, poi stiamo pagando il nostro assistente che ci fa i montaggi, ci hanno dato un contributo anche nei contenuti. Ci hanno dato il loro feedback, hanno visto i video in anteprime e ci hanno permesso di fare una serie di correzioni, abbiamo scelto assieme anche una scaletta, una serie di argomenti da trattare. Quindi il contributo dei Premium in questa nostra inchiesta è stato fondamentale. Io e Riccardo li ringraziamo davvero di cuore. Se anche tu vuoi far parte del gruppo Premium puoi trovare tutte le informazioni qui sotto in descrizione oppure in un video dove spieghiamo ogni cosa e lo trovi nella scheda qui in alto. Che dire, di carne al fuoco ne abbiamo messa e come? Abbiamo anche avuto un intervento accademico e quindi non ci rimane altro che arrivare alla conclusione spiegando cosa bisogna fare per fermare il dilagare della disinformazione. Nel primo video abbiamo intervistato un autore che, dopo averlo confutato in un libro, ha ricevuto minacce di morte e una pallottola. Nel secondo video abbiamo analizzato la storia di Biglino e le sue non credenziali accademiche. Nel terzo video abbiamo elencato la principale delle manovre che lui usa come tattica dialettica. Nel quarto video abbiamo mostrato cosa è accaduto quando lui abbiamo avuto un piccolo dibattito digitale. Nel quinto video abbiamo elencato una serie di errori che noi troviamo a livello logico nel suo lavoro. Nel sesto video abbiamo minato proprio il pilastro su cui si poggia tutto il suo lavoro, ossia una presunta conoscenza della lingua ebraica antica, mostrando dei grossolani errori di traduzione e per farlo abbiamo chiesto la consulenza al dottor Cuscito, un ebraista e storico delle religioni. Ripetiamo che questo ricercatore non ha interesse alcuno nell'attaccare la persona di Mauro Biglino. Il suo intervento è stato squisitamente accademico e quindi tutte le opinioni e le prese in giro che noi di Da Grande Voglio Fare il Buddha abbiamo fatto in questa serie di video non rappresentano affatto le sue idee. Il dottor Cuscito è responsabile per quello che dice lui, noi siamo responsabili per quello che diciamo noi. Ed è proprio qui che nasce l'ultimo video. Nel settimo video di chiusura traiamo le somme e diciamo la nostra opinione personale, che poi in realtà abbiamo detto ampiamente in tutti gli altri video. Come non manco mai di far presente io non sono religioso, ma per niente proprio. Potete vedere infatti una serie di video dove io inveisco con colorito turpiloquio la Chiesa, l'otto per mille e una serie di fanatici cristiani pseudo-razionalisti e dintorni. Ho anche detto chiaramente più volte nei miei precedenti video che, eccetto la Kabbalah, che comunque me la porto sempre nel cuore, quasi tutte le altre forme di abramitismo mi lasciano molto perplesso, se non proprio mi fanno schifo. Le critiche quindi che faccio a Biglino non sono mosse da fede. Anzi, semmai mi si potrebbe definire un vero paladino della laicità. Io posso anche capire che a qualcuno piaccia quel libro fantasy che è la Bibbia, o che magari creda di trovarci dentro anche qualcosa di spirituale. E capisco anche che la Chiesa è ridicola e che le letture che fanno del testo biblico sono unicamente finalizzate a sostenere economicamente la loro SRL. Ma da qui agli alieni. E ce ne passa, cazzo! Volete una visione di cristianesimo mistico? E beh, ce ne sono e come. Pensate ai testi gnostici oppure alla via cardiaca del martinismo. Quella roba, pur non piacendomi, ha comunque il mio rispetto e la mia stima. Vi interessa l'ebraismo? Buttatevi sulla Kabbalah. Luria, Balchentov, Rabbi Simeon e il già citato Donnolo, a cui dedicheremo un video speciale. L'umanità esiste da moltissimo tempo. L'homo sapiens ha come minimo 130.000 anni. Non potete ridurre tutto alla Bibbia. E ancor peggio, alle personali, e secondo me deliranti, interpretazioni di una persona che non è neanche un ebraista, ed è del 2000 praticamente. Abbiamo secoli e secoli di patrimonio culturale. Dall'India all'Egitto, dalla Cina al Giappone, le religioni gentili, i culti nordici e sciamanici, e chi più ne ha, più ne metta. Migliaia di grandi anime e grandi menti che nel corso dei secoli hanno scritto tantissime cose. Non accontentatevi delle risposte facili e non vi mettete a dire Alien Alien al posto di Amen Perché è la stessa cosa. Un intero universo di sapere umanistico e scientifico è là fuori da internet che vi aspetta. Nell'era dell'informazione possiamo dire che l'ignoranza è una scelta. Ricordiamo le parole del sommo profeta Fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenza. C'è davvero molto poco da aggiungere tanto sappiamo tutti come andrà a finire questa storia. I sostenitori di Biglino verranno qui sotto a questi video a scrivere puttanate ed insulti senza ovviamente aver capito una sola delle mie parole. E questo perché è fede cieca e vabbè c'è poco da fare. Quelli che erano dubbiosi cioè le fasce grigie speriamo che prendano posizione e che la maggior parte si allontanino da lui com'è giusto che sia. Sono ben certo che Biglino stesso accuserà il colpo ma magari per mantenere la sua immagine ci ignorerà rimanendo però lì a rodersi in silenzio. Ma per esperienza sappiamo molto bene che certi silenzi ufficiali in realtà dentro urlano di rabbia. Non escludo la possibilità che ci arrivi anche una cosiddetta letterina magica ma sì siamo pronti anche a quello. Io sono nato pronto. In ogni caso come già detto e lo ripetiamo siamo apertissimi al confronto e al dibattito. Pertanto se vorrai contattarci caro Mauretto la nostra email è info chiocciola wannabibuddha.com Aspettiamo un tuo messaggio. Comunque vada questi video resteranno qui su YouTube e chiunque da questo momento in poi quando cercherà Biglino sul proprio smartphone o e-fod ci troverà fra le prime indicizzazioni ed in tutti i video consigliati nelle schede laterali. Quindi come vadano vadano le cose noi ci reputiamo soddisfatti. Ringraziamo nuovamente tutti quelli che hanno reso possibile questi video in primis i wannabe premium poi Daniela Richiello per la sua intervista ovviamente Riccardo che mi sta sempre qui dietro le quinte che voi non lo vedete perché io sono il frontman ma dietro c'è un universo eccolo qui si vedono sono visto è bravo ringraziamo anche il dottor Cuscito ringraziamo tutti voi che avete avuto la pazienza di vedere questa serie di video ringraziamo Biglino per averci fornito tanto materiale per poter parlare di lui e infine ringraziamo tutti gli alienofili che mi insulteranno regalandoci big views contribuendo così a una maggiore monetizzazione e indicizzazione dei nostri video sarà bellissimo a fine anno mangiarci una pizza a spese loro e infine lo dico ufficialmente questa inchiesta è stata realizzata su richiesta esplicita ma non volontaria del nostro testimonial la figura senza il quale forse non sarebbe nato nulla di tutto questo e con tutto questo parlo proprio il canale da grande voglio fare Buddha ossia l'impagabile Mike Plato Mike ti avevo promesso che ci saremmo occupati di biglino e lo abbiamo fatto come minimo ci dovremo fare una bevuta assieme ma scelgo io cosa bere detto questo non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri social network mettere un like qui su youtube attivare le notifiche e iscrivervi al canale seguiteci anche su facebook per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti e sugli avvenimenti che faremo anche dal vivo iscrivetevi al nostro canale telegram non siamo degli spammoni quindi tranquilli non vi arriveranno 60.000 messaggi ma vi permetterà di vedere in anteprima i video siamo anche abbastanza attivi di tanto in tanto su instagram quindi seguiteci pure lì mettete un like perché facciamo delle storielle divertenti e rispondiamo a tante domande colgo anche l'occasione per ricordarvi che una domenica al mese e in genere lo annunciamo con largo anticipo facciamo delle live sul nostro canale dove chiunque tramite un chatbot può rilasciarci delle domande basta che andate sulla nostra pagina ci contattate per mandare un messaggio e seguendo degli step molto precisi e abbastanza intuitivi arriverete in un punto in cui potrete chiederci qualunque cosa e noi nelle live risponderemo mi raccomando condividete questa playlist di video in tutte le bacheche dei supporters di mauretto nei gruppi tematici dove si parla di lui e soprattutto andate a spammarglielo in bacheca affinché lui sappia che gli abbiamo ufficialmente fatto richiesta di un contraddittorio come sempre chiudiamo con il nostro motto sat a sat vive cabundi la mente illuminata discerne il vero dal falso un saluto e al prossimo video scusate di nuovo telefono oh è mauretto come mauretto è mauretto rispondi pronto mauro dimmi tutto dai l'hai visti tutti e sette grande ti sono piaciuti i video vabbè ma si è spettacolo è spettacolo si fa per ridere youtube è intrattenimento si si anche tu ne dici tante per intrattenimento lo so lo so